Prendono ufficialmente il via i quattro giorni di festa per il Capodanno a Napoli. Dal 29 dicembre al 1 gennaio, musica protagonista con tanti ospiti. Per la città si prevede una vera e propria invasione di turisti, strutture ricettive piene e boom di presenze. Per il presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola, ora è tempo di estendere, non solo al centro storico, ma anche agli altri quartieri di Napoli, le opportunità legate al turismo. La città è piena di turisti e pare anche le prime due settimane di gennaio sono completamente piene. Io dico che dobbiamo coprire l'altra parte della stagionalizzata che va da gennaio a marzo, in modo da fare un anno pieno, ma in più dobbiamo allargare la fascia della zona dove i turisti possono andare, perché questa forza dei turisti non possiamo rimanerla solo su piazza o municipio. Allo stesso tempo, la guida dell'ente camerale stoppa le polemiche sul rincaro da 2 euro per i turisti in partenza da Capodichino e non risparmia una stoccata alla precedente amministrazione. In tutte le città si paga di tutto e di più, le cose belle le altre città e gli altri paesi se le fanno pagare. Non dimentichiamo che la vecchia amministrazione ha rimasto qualcosa come 5 miliardi di euro di debiti che pesano sulla città e sulle iniziative.